Pane di avena, nutriente, adatto alla dieta, gustoso e facile da preparare È una ricetta molto nutriente, consigliata per la colazione e davvero molto gustosa, il pane di avena è tanto semplice da realizzare quanto gradevole al palato. L'avena offre numerosissimi benefici per la nostra salute, non tutti conosciuti. . Contiene vitamine E, B6 e B5, e minerali come selenio, rame, manganese e ferro. Ci aiuta a perdere peso, dà energia, disintossica l'organismo e stimola il fegato, essendo ricca di amminoacidi essenziali. . E non finisce qui, l'avena è ricca di fibra, che favorisce la digestione, combatte la stitichezza e regola gli zuccheri nel sangue. Ingredienti del pane di avena, 375 grammi di farina integrale, 50 grammi di fiocchi d'avena, 25 grammi di burro, 75 grammi di miele, 10 grammi di sale, lievito e 250 ml d'acqua. . Ricalda 175 ml d'acqua, fino a portarla ad ebollizione. Ritirarla dal fornello e aggiungere i fiocchi d'avena, il miele, il burro e il sale. Mescoliamo bene fino a far sciogliere gli ingredienti. . Aggiungiamo l'acqua restante e continuiamo a mescolare, poi aggiungiamo poco a poco la farina mescolata e il lievito in polvere. Bisogna ottenere un composto omogeneo e abbastanza denso, tanto da poter essere impastato per 5 minuti almeno. . Versare il risultato in un recipiente unto con dell'olio d'oliva, copriamo con una pellicola trasparente e lasciamo riposare per circa due ore in frigo. . Trascorso questo tempo, continuiamo ad impastare con le mani, copriamo il tutto con un panno umido e attendiamo altre due ore, questa volta a temperatura ambiente. Inforniamo a 200 gradi per circa 45 minuti, poi altri 15 minuti a 150 gradi. .